Uno dei miei sorpassi più belli del 2022 Ho due auto davanti a me in lotta tra loro Quando è così non devi mai metterti in mezzo Ma devi lasciarli lottare e aspettare il momento giusto Arriviamo in frenata e vedo che entrambi sono in lotta Quindi che faccio? Dato che la prossima curva è una chicane Alzo il piede, anticipo la frenata In modo da sacrificare l'ingresso per uscire più forte A metà della curva come vedete loro sono ancora affiancati Quindi sono obbligati a fare linee sbagliate Lui si trova troppo a destra e quindi faticherà ad uscire dalla curva Mentre l'altro si trova bloccato dall'altra macchina E non può incrociare la linea per uscire più forte Così io che ho preso la rincorsa Riesco a incrociare la traiettoria Uscire più forte e ne passo due in un colpo solo